ariete prenditi cura di te e se puoi fai qualcosa di diverso magari un pranzo fuori magari in compagnia toro ti senti in piena forma bene con te stesso e il tuo corpo non hai voglia di fare programmi particolari per la giornata ma desideri solo grande tranquillità gemelli sport mangiare sano fare qualcosa che ti piace davvero a seconda solo te stesso se puoi cancro sabato di riflessione tante le strade possibili da seguire prova a capire in quale direzione andare quanto osare quanto rischiare leone finalmente sabato finalmente un po di sana lentezza oggi vuoi solo leggerezza e serenità vergine ti sveglierai con un sorriso scaramantico quasi a voler esorcizzare una giornata che non si preannuncia certo leggera bilancia oggi calore e passione coinvolgimento e sensualità scandiranno ogni minuto della tua giornata non fermarti mai a farti domande oggi devi solo vivere il momento scorpione felice delle tue scelte oggi più che mai se sei un libero professionista scoprirai che anche la libertà ha un prezzo sagittario ti serve relax e riposo hai bisogno di una pausa e così penserai a una domenica in pantofole cabricorno sabato per nulla rilassato per le coppie sabato di confronti con il partner e di riflessioni sul futuro acquario nostalgia canaglia ti fermerai a guardare indietro saturno ti inviterà a rivedere il tuo passato per meglio comprendere e apprezzare il tuo oggi pesci lode alla semplicità oggi ti serve concretezza quella che si trova di solito nelle piccole cose nei sorrisi sinceri